Inventarsi questo cazzo di legge elettorale che c'è perfettamente, perché il vicepresidente della consulta, Mazzella, che tu puoi invitare, dice che la miglior legge possibile è il porcellum emendato, con le preferenze e questi stronzi non vogliono mettere, il premio di maggioranza, la consulta dice una cosa e fanno il contrario, sono le facce di merda. La consulta ha detto preferenze e ha detto no premio di maggioranza. Ha detto anche che il Parlamento ha la facoltà di fare una legge elettorale. Ha il diritto di fare quello che dice Vendola, che immediatamente si farà ricorso la consulta per invalidare la legge che vuole fare Alfano e Alfano, quell'altro Alfano no, chi è? Renzi, insomma Alfano e Renzi sono simili, sono come Gianni di fronte. A me Renzi è anche simpatico come dire alla fine, ma è tecnicamente un figlio di puttana. Va bene, alla quinta parolaccia ci fermiamo. Io sono un dattoriano di sinistra. A me Renzi è anche simpatico come dire alla fine, ma è tecnicamente un figlio di puttana.